Numero 5. Proposta in nero, marrone e beige, può essere indossata sia in versione casual che più elegante, abbinata a un jeans o ad un vestito. La qualità dei materiali utilizzati è ottima, resistente e confortevole. Perfetta per chi vuole seguire le ultime tendenze senza rinunciare al comfort. Non perdere l'occasione di avere un capo così versatile e trendy nel tuo guardaroba. Il loro design a collo alto le rende un accessorio versatile, perfetto per essere indossato in ogni occasione. La qualità dei materiali è eccellente, garantendo resistenza e comfort per tutto il giorno. Trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video. Numero 4. La morbida suola interna in schiuma garantisce un comfort extra. La nuova linea di sneakers donna firmata Converse ha fatto impazzire gli appassionati di moda e non solo. Il loro ultimo modello è una perfetta combinazione di stile e comfort, ideale per coloro che non vogliono rinunciare alla moda ma allo stesso tempo cercano il massimo comfort per i loro piedi. Realizzate in canva con puntale in gomma, le Chuck Taylor sono già un'icona della moda, ma con l'aggiunta della suola platform chunky a carro armato diventano un must-have assoluto per questa stagione. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto, clicca il link in descrizione. Numero 3. La scelta di utilizzare cotone organico e materiali riciclati dimostra l'impegno del brand per l'ambiente e la sostenibilità. Inoltre, la suola in gomma amazzonica e scarti di riso conferisce una qualità superiore e una maggiore durata alle sneakers. Questo è un aspetto importante per chi desidera un prodotto resistente e di qualità. Oltre alla grande attenzione alla sostenibilità, il marchio si distingue anche per il design trendy e moderno delle sue sneakers. La varietà di colori e stampe disponibili permette di trovare il modello perfetto per ogni stile e occasione. Puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione. Numero 2. Questi iconici modelli, ispirati alle famose sneaker degli anni 80, sono diventati un simbolo di stile e di versatilità. Con la loro forma semplice e minimalista, queste sneakers si adattano perfettamente a qualsiasi look, sia esso casual o più elegante. La loro comodità è garantita dalla suola ammortizzante e dal design ergonomico, che permette di affrontare la giornata con passo sicuro e senza sforzo. Prima di essere considerate un accessorio di moda, le sneakers erano principalmente utilizzate come scarpe da ginnastica unisex. Se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione. Numero 1. La tomaia in pelle scamosciata e il logo in gomma sulla linguetta conferiscono un tocco di eleganza a queste sneakers, che risultano comode e adatte a qualsiasi occasione. Ideali per le donne che amano unire comfort e stile nella loro scelta di calzature. Il design moderno e la suola platform le rendono perfette per arricchire qualsiasi outfit, dal più casual al più elegante. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto.